vediamo la chiesa di santa maria nel comune duco di marcia guardiamo così avviciniamoci guardiamo il profilo vedete lo possiamo guardare così possiamo guardare così le visuali sono tante facciamoci una passeggiata così soffermiamoci e guardiamo l'altra visuale a destra proseguiamo così mi allontano piano piano vado indietro qua bisogna stare guardare sennò non va indietro la parte della tecca ed ecco la manipula chiesa di santa maria allora io qua te lo sto attendo è pericoloso se vado più indietro posso anche cadere vedete come magnifica e bella da qui vediamo via santa maria che segue da questa parte che proviene un ciclista dei nostri ciclisti un ciclista e ora è piaciuta la visione chiesa di un ciclo